e vorrei chiedere a Leopoldo Tartaglia che è collegato con noi e poi dopo dare la parola a Elena Mazzone con Giuseppe De Marzio grazie, mi sentite? sì, ti sentiamo ma ti vediamo male perché ho un problema di... aspetta, forse un po' meglio questo è il massimo che riesco a fare vi ringrazio ovviamente per l'invito e mi dispiace non essere presente lì credo che c'è indirettamente o direttamente anche una forma di collaborazione fra noi della sinistra sindacale e in particolare il periodico che facciamo e Transform e colgo l'occasione anche per ringraziare tutti i compagni e le compagne che molto spesso intervengono sul nostro periodico che ci aiutano ad allargare diciamo il campo della nostra visione e anche noi siamo molto preoccupati e siamo impegnati con le forze che abbiamo nel ragionamento di portare avanti una cultura contro la guerra contro l'Europa fortezza chiusa all'immigrazione contro l'Europa che ormai ha abbandonato contro la visione di Europa che ormai ha abbandonato qualsiasi idea di Europa sociale credo però, sono d'accordo con tutte le analisi che sono state fatte finora e ovviamente non sono il più adatto per riprenderle quindi forse vale la pena che dica qualcosa su questa fase impegnativa per tutti ma impegnativa anche per la CGL di mobilitazione sociale martedì ci sarà l'Assemblea generale della CGL che deciderà un percorso di mobilitazione di raccolta di firme su alcuni referendum abrogativi e su alcune leggi di iniziativa sociale leggi popolari e naturalmente già fin d'ora abbiamo dichiarato e abbiamo praticato non solo il nostro impegno la nostra mobilitazione nel movimento pacifista nel movimento contro la guerra nel movimento contro il cambiamento climatico ma ovviamente già fin d'ora sappiamo che insieme ai referendum sociali e alle proposte e alle iniziative di legge popolari sulle quali ci mobiliteremo insieme alle associazioni del percorso della via maestra a cui la CGL ha dato vita ovviamente ci sarà l'impegno fondamentale lo citava prima Cucurrese ma non solo lui contro l'autonomia differenziata e contro il premierato e sappiamo che anche lì dovremmo appunto metterci bene in moto e organizzare un ampio schieramento sociale per quei referendum per quanto riguarda diciamo i temi più sociali è già stato detto cioè da una parte la guerra dall'altra appunto la guerra non dichiarata ma fatta contro i migranti dall'altra parte l'esplosione delle deseguaglianze per quanto riguarda il mondo del lavoro significa arretramento dal punto di vista salariale significa arretramento dal punto di vista dei diritti significa le catombe quotidiana di morti e di infortuni sul lavoro c'è stata ieri l'assemblea a Firenze dei delegati degli RLS RLST della CGL e della UIL ci sarà l'11 uno sciopero proclamato da queste due confederazioni l'11 aprile il 20 aprile una manifestazione nazionale a Roma il 25 maggio saremo a Napoli in una manifestazione che rilancerà appunto il tema dell'unità del paese della democrazia contro l'autonomia differenziata e il premierato quindi credo che siano temi su cui è importante che ci sia un confronto mi piacerebbe entrare nella discussione che ha aperto adesso Franco sulla sinistra ma insomma credo che la cosa più importante fra noi e vi ringrazio di nuovo per l'invito sia quella appunto di una battaglia culturale fatta in tutte le sedi con tutti gli strumenti piccoli o grandi che abbiamo per ricostruire un pensiero della sinistra e poi ovviamente il grande problema è il radicamento sociale è un problema che ovviamente in termini completamente diversi abbiamo anche come sindacato abbiamo come sinistra sindacale però è chiaro che non c'è ricostruzione di un pensiero se non c'è contemporaneamente ricostruzione di legame sociale e i prossimi mesi saranno fondamentali mantenendo al centro la battaglia contro le guerre per la pace per la fine del genocidio a Gaza per il riconoscimento dello Stato palestinese e tutte le battaglie sociali di cui avete parlato e sulle quali siamo impegnati vi ringrazio ancora buon lavoro grazie Leopoldo grazie a tutti